Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Allora, in questo video vi sarò a vedere come preparare un dolce a cioccolato che io preparo praticamente da una vita, lo faccio ogni anno e prendo uno store, quindi da quando ero piccola così che faccio questo dolce ormai lo conosco a memoria e ho detto che quest'anno faccio il video. Allora, iniziamo! Quello che occorre sono 8 uova, 500 g di cioccolato condente, 250 g di burro, 30 g di farina e 200 g di zucchero. E adesso iniziamo! La prima cosa che dobbiamo andare a fare è mettere in un legame il cioccolato e il burro. E poi dovete mettere a cuocere su un fornallo e contemporaneamente girare. Mentre aspettiamo che il cioccolato si raffredda, andiamo a rompere le uova dividendo chiaramente il bianco da rosso. e poi andiamo a scoprire le uova. e andiamo ad aggiungere metà dello zucchero perché poi l'altra metà ci servirà a più tardi. e adesso andiamo ad aggiungere la farina. e adesso andiamo ad aggiungere la farina. ad aggiungere diciamo il bianco dell'uovo e ci aggiungiamo lo zucchero rimanente. fatto questo andiamo a riprendere il nostro cioccolato e lo mettiamo praticamente nell'impasto qui. e poi mescoliamo bene. e poi uniamo il tutto al bianco montato a neve. Dopo aver unto il nostro stampo, mettiamo il contenuto qui dentro. infine la mettiamo nel forno. io l'ho messa a 180 gradi a forno ventilato. e sta circa una mezz'oretta e poi dovrebbe essere pronta, di solito gli altri anni così era. e poi dovrebbe essere pronta. e poi dovrebbe essere pronta. e poi dovrebbe essere pronta. e poi dovrebbe essere pronta.